Ci troviamo a Villaggio Santa Barbara, alle mie spalle un parco giochi realizzato diversi anni fa, un parco giochi che doveva servire per gli anziani e per i tanti bambini del quartiere, un quartiere che doveva trovare una certa espansione. Questo parco giochi non è mai entrato in funzione, anzi con gli anni è stato distrutto sempre di più e qui sono stati spesi tantissimi soldi. L'ingresso è chiuso ma si può entrare come vedete perché qui la recinzione è di velta. Andiamo a vedere cosa c'è all'interno. Qui doveva esserci un'area attrezzata con i giochi per i bambini. Questa invece è diventata una trappola per i bambini che possono benissimo entrare come siamo entrati noi ma qui è molto rischioso venire a giocare. Novità? Un palo della luce per terra. Diversi servizi abbiamo realizzato qui e purtroppo diverse promesse sono state fatte dall'amministrazione comunale, invece passa il tempo, passano gli anni ma qui la situazione è peggiora. Al posto dell'altalena vediamo il resto di un altro palo della luce. Gli scivoli di velti, per terra pezzi di ferro, legname, vetri, mondizia di ogni genere anche perché l'erbaccio ovviamente qui crescono, nessuno viene a curare. Anche qui l'altalena non esiste più, quello doveva essere un cavalluccio pure rotto, lo scivolo spaccato, un altro palo per terra. E per giocare a calcio era stato realizzato questo campo abbastanza grande, le porte non esistono più, qui è tutto allagato. Però continuiamo a ripetere, i ragazzi del quartiere entrano, vengono qui a giocare. E lì gli spogliatoi, adesso sono chiuse le porte, ma noi abbiamo realizzato un anno fa un servizio all'interno. Erano degli spogliatoi costruiti con tanti soldi perché erano costruiti ad opera d'arte, il dentro è tutto distrutto. Hanno portato via addirittura anche le porte interne, i bagni, tutti i muri imbrattati. Insomma una struttura che è andata persa senza mai essere stata utilizzata. E purtroppo non intervenendo tempestivamente come avevamo chiesto noi, più passa il tempo, più la struttura si distrugge. E sempre a villaggio Santa Barbara, qui ci troviamo nella zona dove verranno assegnate le nuove case popolari. Qui verranno ad abitare quindi tante famiglie. E da più di un mese troviamo questo segnale per terra. Quindi cosa dovrebbe segnalare? Potete notare un buco. Un buco che va diventando sempre più profondo perché il manto stradale si va sgretolando, soprattutto adesso che sono iniziate le piogge. Un masso che dovrebbe tenere in piedi il segnale stradale. Tutto per l'incuria di chi dovrebbe provvedere. Perché comunque passando qui, soprattutto nelle ore serali, con una bicicletta, con un motorino, non si vede il pericolo. E il buco può essere pericoloso per qualche incidente. Ma anche per le macchine può essere dannoso. E ricordiamo che questi problemi nel manto stradale dovrebbero essere segnalati con i cartelli o con delle transenne, un po' prima, per permettere a chi circola di scansare il pericolo. E dato che noi non ci facciamo mancare proprio niente, nella stessa via troviamo materiale in Eternit frantumato. Depositato da tanto tempo qui per terra, nessuno lo porta via. Ricordiamo che il materiale in Eternit, soprattutto le polveri del materiale in Eternit, sono nocive per la salute pubblica. E qualcuno ci ha pensato a scrivere di rimuovere la spazzatura. Però nessuno viene a portare via questo materiale.